Che sta facendo Sergio con Greta? Scopri l'amarezza dietro il grande fratello. A poche settimane dalla conclusione del grande fratello, i legami di amicizia formatisi all'interno della casa sembrano già essere messi alla prova e alcuni addirittura si stanno sgretolando. Già nei giorni scorsi, alcuni concorrenti avevano iniziato a lanciarsi frecciatine a distanza, ma ora la situazione sembra essere peggiorata, con alcuni ex coinquilini che addirittura ignorano i propri ex compagni di avventura. Uno dei legami più solidi creati durante il reality è stato quello tra Stefano Miele, Sergio Dottavi e Beatrice Luzzi. Stefano e Sergio sono entrati nella casa quasi in concomitanza con il Natale, formando insieme all'attrice di vivere un trio indissolubile. Tuttavia, una volta terminato il reality, il gruppo si è disgregato. Recentemente, Stefano Miele ha tenuto una diretta sui social media e, rispondendo alle domande dei fan, ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Beatrice e Sergio. Ha rivelato che lui e Beatrice si vedranno venerdì e non vede l'ora di passare del tempo con lei, ricordando con nostalgia i momenti di divertimento trascorsi insieme ballando nella casa. Tuttavia, Sergio non parteciperà a questa riunione. Stefano ha svelato che Sergio sembra essere scomparso e non risponde più alle chiamate, lasciando intendere che il cambiamento potrebbe essere dovuto alla sua relazione con Greta Rossetti, l'influencer con cui ha iniziato una storia durante il reality e che sembra continuare anche al di fuori della casa. Questa situazione mette in evidenza come i rapporti instaurati all'interno del grande fratello possano essere soggetti a cambiamenti repentini una volta terminata l'esperienza televisiva. Resta da vedere se questa rottura sarà definitiva o se con il passare del tempo i rapporti potranno essere riappacificati.